Sicuramente per Acque è un'azienda importante idrica toscana e per il sistema toscano di grande importanza essere premiati come miglior utility italiana dalla borsa, da un sistema di riconoscimento così significativo in un momento così delicato. L'azienda fa molti investimenti e riesce a essere leader nel mercato contenendo la tariffa e questo non è poco. In un momento nel quale l'autorità idrica gli ha allungato la concessione non a caso perché così il suo piano finanziario può essere meglio sviluppato. Siamo in una fase di bilancio per il sistema toscano, siamo alla fine delle concessioni avute attraverso Gara ormai più di dieci anni fa, un sistema che ha bisogno ancora di essere finanziato anche con contributi fuori dalla tariffa per migliorare la qualità dell'acqua, migliorare il sistema di tubi, la depurazione, la fognatura per permettere alla Toscana di essere ambientalmente compatibile. Presidente, a proposito del sistema toscano c'è l'ipotesi che parla della gestione dell'acqua verso Roma, verso la capitale di Asceni? Ma al di là del fatto che questo è un tema che riguarda i sindaci, la domanda va apposta ai comuni, io penso che da quello che ho letto il sistema toscano ha intenzione di crescere e di crescere prima di tutto mettendosi insieme sinergicamente e ovviamente confrontandosi con i partner industriali che oggi ci sono, ma ripeto è un tema che riguarda la politica, riguarda i comuni, riguarda i soci ed è giusto che resti lì.